Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Flavia Truppia, esperta di retorica e comunicazione, buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes e direttore della scuola di Limes che da oggi riapre le iscrizioni e buonasera Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia. Allora Giorgio Meloni contro tutti, contro Elislein, contro Conte, contro Repubblica, cosa sta succedendo subito dopo la pubblicità? Allora Massimo Giannini comincio con te perché tu e il tuo giornale Repubblica siete sotto attacco della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lunedì criticando il tuo vostro editore, il gruppo Gedi che è di proprietà di John Elkan ha detto che non siete titolati a dare lezioni di italianità e che scrivete il falso. Oggi al Question Time è tornata ad attaccare frontalmente il gruppo Stellantis di cui è Presidente John Elkan che è il gruppo nato dalla fusione di Peugeot, Fiat e Chrysler. Quindi ti chiedo ma il vero bersaglio di Giorgia Meloni sono le auto, sono i giornalisti? L'altra volta avevamo parlato, rievocando uno dei punti di Paolo Pagliaro, la famosa capocrazia. Ecco io penso che Giorgia Meloni con questo attacco dissennato in una rete amica, rete 4 in un programma amico, quello di Nicola Porro ha confermato il suo modus operandi che riflette esattamente questa idea di capocrazia. La capocrazia che cos'è? Di fatto è una visione proprietaria della cosa pubblica, della maggioranza e del governo e una visione autoritaria dei rapporti con i corpi intermedi della società, con l'informazione, con i poteri economici. Che cosa c'è che non va in questo attacco? Io non devo difendere John Elkan, non è il mio mestiere, ognuno può pensare quello che vuole di John Elkan, capitalista, imprenditore, ha fatto bene, ha fatto male, ha venduto la Fiat ai francesi, ha portato le sue aziende, sede legale, sede fiscale, oltre frontiere, ognuno si può fare la propria idea, ma quello che è inaccettabile è questo legame che Meloni fa, che riflette puntualmente, se vogliamo, l'ideologia berlusconiana, tra l'editore, l'imprenditore che possiede anche partecipazioni editoriali e le sue attività di industriale privato, come se l'una cosa dovesse necessariamente essere collegata all'altra, è come se i giornalisti che lavorano nei giornali o negli organi di informazione che quel capitalista possiede fossero i suoi utili, idioti, questo aspetto è inaccettabile. Per noi ci ricordiamo che quando decise di scendere in campo, chiamò a raccolta i suoi giornalisti. Esattamente, dov'è l'inghippo Lilli? Dov'è la cosa inaccettabile che riflette questa idea malintesa di destra che ha la Meloni? Cioè il conflitto di interessi, perché di questo ha parlato lei, esiste quando in capo al soggetto che ha una serie di interessi economici c'è anche un ruolo politico. Berlusconi aveva un conflitto di interessi colossale perché mentre era Presidente del Consiglio, capo del più grande partito in quel momento del nostro paese, era concessionario di tre reti televisive private, proprietario di banche, di assicurazioni, di società immobiliari, di una squadra di calcio e dunque come capo del governo poteva incidere sul suo business. Quello è il conflitto di interessi. Quello che riguarda i soggetti imprenditoriali privati che hanno solo quello e non hanno ruoli politici non è un conflitto di interessi. Ci sono interessi ma non c'è il conflitto e soprattutto i giornalisti fanno i giornalisti. Berlusconi, quando è sceso in campo nel 94, lo racconta oggi, guardate, non a caso, viene proprio a fagiolo Enrico Mentana in un'intervista molto interessante sul Corriere della Sera. Quando Silvio Berlusconi nel 93 deve decidere se scendere in campo oppure no, chi convoca ad Arcore? Convoca Letta, come sempre, con Fallonieri, Dell'Utri e poi i suoi giornalisti. Indro Montanelli, Giuliano Ferrara, lo stesso Enrico Mentana, Federico Orlando. Quello è il conflitto di interessi di cui temo, temo e concludo, questo atteggiamento di Giorgia Meloni oggi, suffragato da una velina di Palazzo Chigi diffusa questa mattina che dà la linea a tutti i parlamentari confermando quelle accuse, è un cascame di tardo impero, ma siamo dentro la stessa logica, inaccettabile per una democrazia. Cascame di tardo impero, Italo Bocchino, però qui dovremmo essere solo all'inizio dell'impero meloniano. È troppo severo, tu anche conosci il mestiere del giornalista, quindi deve godere di tanta autonomia, se no giornalista non è. Il giornalista deve essere autonomo e rispettare anche la deontologia, non può richiamarsi solo all'autonomia come se fosse un'anarchia che può scrivere e fare quello che vuole. Ma è quello che ha fatto Repubblica? Repubblica ovviamente utilizzando il meccanismo, il sistema giornalistico dei retroscena oppure la forzatura dei titoli, che sono due cose che noi giornalisti conosciamo benissimo, rappresenta una realtà che non è quella che risulta dai dati statistici di questo Paese e racconta un Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni in maniera diversa da quello che è Giorgia Meloni. Quello che chiama capocrazia Massimo Giannini in realtà non è interpretata dalla Meloni, la capocrazia si è avuta quando a causa e per volontà della sinistra si è determinata la fuoriuscita da stanze del potere di un capo, un capo del governo che non aveva il consenso popolare. Quella di Giorgia Meloni non è capocrazia, è democrazia perché finalmente dopo tanti anni abbiamo un Presidente del Consiglio che si è presentato agli elettori e ha detto questa sono io, questo è il mio programma, questi sono i miei alleati, se volete votatemi, l'hanno votata, gli indici di fiducia sono in risalita, ho letto il Corriere della Sera di questa settimana l'indagine che fa il Corriere della Sera ciclicamente che gli indici di gradimento per il governo e per la Meloni sono in salita, i sondaggi dicono che la Meloni va a gonfie vele e questa è la democrazia, bellezza, nella democrazia conta la maggioranza, non conta l'oligarchia, non conta l'oligarchia, io non voglio entrare sulle scelte imprenditoriali di Elcan, sono fatti suoi, sono soldi suoi, sono aziende suoi, l'importante è che non ci vengano a chiedere poi i francesi i contributi pubblici per fare auto che le vanno a fare a Parigi, che non ci chiedano questo, è finita l'era dell'oligarchia e siamo entrati nell'era della democrazia. Ma scusa però... Volevo poi sapere cosa c'entra in questo il giornalismo critico e autonomo e vorrei sempre ricordare per dovere di cronaca e di memoria che i governi e i presidenti del consiglio non eletti in questo paese sono stati quelli che sono stati chiamati da tutti i partiti politici a salvare la patria, sì, perché neanche Giorgio Amelone è stata capace di mettere su un governo e quindi qualcuno doveva pur governare questo paese, ma questo lo ricordo così. No, 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 ma adesso non voglio aprire un di fatto. Completo quello che ha detto Lilli e così puoi rispondere, perché le parole di Italo Bocchino sono importanti perché c'è in quello che ha appena detto una missione significativa, appunto lasciamo stare Elka nei suoi affari, ma Italo Bocchino ci ha spiegato che l'attacco che Repubblica, che Giorgia Meloni fa a Repubblica, che peraltro ricordiamolo è a valle di una serie di tanti altri attacchi a questa trasmissione e a te, al report su Rai3 lo scorso fine settimana, dipende dal fatto che Repubblica racconta una realtà sgradita alla Presidente del Consiglio, sgradita nel senso che è diversa da quella che le statistiche ufficiali sembrano dimostrare. Allora, ci rendiamo conto di quanto è enorme questa affermazione? Cioè vuol dire che la Presidente del Consiglio, nei confronti di un potere che legittimamente esercita il suo posto, attacca l'editore e i giornalisti perché raccontano una realtà che non le piace. Ma è grave, e vedi che è capocrazia. Il Presidente del Consiglio ha ragione o ha torto a dire guardate questi qui non stanno facendo un buon giornalismo, sbertucciate, se il report va a lavonare nell'immondizia, va a lavonare nell'immondizia, sta a dire chi fa buon giornalismo e chi no, ma tu sei un giornalista. Ma non dice questo, non dice questo, dice che quelle cose non sono vere, sono false. Non ha detto questo purtroppo. Non si è limitato a dire questo. Non ha detto questo. Allora, Lucio Caracciolo, Corte Suprema, c'è, allora intanto anche tu sei un servo del padrone perché l'IMES, il tuo mensile che va peraltro a gonfievele insieme alla tua scuola di LIMES, fate parte del gruppo GEDI. C'è un problema di questa Presidente del Consiglio con il giornalismo critico? Perché diciamo che adesso Bocchino usa il termine Repubblica sbertuccia tutti i giorni, non so, non mi sembra che stiano sbertucciando, ma diciamo, il giornalismo critico ha diritto di cittadinanza in un paese democratico o no? Il giornalismo deve essere critico altrimenti faremo altri mestieri, cioè deve avere un approccio critico alla realtà, non è che deve stare per forza con questo o con quello, ma deve descrivere i fatti in maniera critica, cosa che normalmente un politico specialmente sa il potere e non fa perché altrimenti si sparerebbe sui piedi. Però un politico deve rendere conto all'opinione pubblica e quindi a un corpo intermedio come è la libera stampa? Sono poi i lettori che ci daranno i voti, certamente non il Presidente del Consiglio, ma temo che purtroppo la cosa sia leggermente di livello un po' più basso, nel senso che alzare questi polveroni e cominciare a prendersela con la stampa, con i media, che poi insomma ce ne sono di tutti i tipi, vuol dire che non hai molto da dire sulle cose concrete e questo è un po' il punto, noi siamo un paese oggettivamente in difficoltà, è inutile che tiriamo fuori chissà quale statistica. Se andiamo a vedere come siamo messi oggi nel contesto anche geopolitico, siamo messi notevolmente male e ci aspettano momenti molto duri, specialmente con la ripresa dell'austerità che sarà una mazzata micidiale. Poi adesso abbiamo aggiunto anche questa storia delle autonomie regionali, un paese che di tutto ha bisogno fuorché di disperdere ancora il potere. Siamo messi in una situazione che è oggettivamente difficile, non per colpa della Meloni o di qualcun altro, perché le cose stanno così e la Meloni se la prende con i giornalisti. Poi c'è un altro punto che anche se un giornalista oggi volesse servire un padrone avrebbe difficoltà, ma non perché lui non voglia magari, ma semplicemente perché vorrei capire chi sono oggi i padroni davvero in Italia, abbiamo una scarsità di padroni, quindi anche il più servile dei servi trova difficoltà a trovare un padrone. Perché dici che... Perché vogliamo dire che la Meloni è il Presidente del Consiglio, ma non credo che sia la padrona dell'Italia, no? E più in generale il potere è molto diffuso in Italia e quindi praticamente non c'è. Della RAI forse un pochino, anche perché con un lapsus ha detto riequilibreremo in RAI nella conferenza stampa famosa di inizio anno. Senta, professoressa Trupia, abbiamo visto gli esempi di insofferenza di Giorgia Meloni nei confronti della libera stampa sono innumerevoli, ma è un espediente, uno strumento retorico che funziona? Sì, è uno strumento retorico che funziona benissimo, quello di attaccare la stampa ai giornalisti. E funziona sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo che è un'argomentazione che possiamo chiamare cioccolata, cioè un genere di conforto. Gli italiani non amano tantissimo leggere, leggere è faticoso, approfondire è faticoso ed è bello croggiolarsi nel vittimismo, tanto i giornali sono inutili e dicono tutte bugie. E quindi è un'argomentazione che ci fa piacere ascoltare. Le cose me le dice la mia premier, me le racconta lei. Il secondo motivo per cui funziona questa strategia è perché mette in campo l'argomentazione della vittima, classica argomentazione in cui un oratore dice siamo accerchiati, siamo incompresi, siamo attaccati da tutte le parti ed è la strategia dell'underdog, cioè del sottovalutato che poi è il Davide contro Golia che poi alla fine vince. Quindi funziona e funziona benissimo. Funziona e funziona benissimo. Massimo Giannini, diceva prima Lucio Caracciolo che in realtà la situazione dell'Italia anche in un contesto geopolitico più ampio è tutt'altro che buona. ma oggi c'è stato appunto il question time e le opposizioni hanno, Conte e Schlein in primis, hanno attaccato duramente la Presidente del Consiglio entrando anche nel merito di alcune questioni concrete. A un certo punto Elie Schlein parlando della sanità pubblica che è ampiamente sottofinanziata, come sapete, nonostante durante la pandemia tutti dicessero no, adesso abbiamo imparato le lezioni eccetera eccetera, appare che non abbiamo imparato niente, infermieri e medici non sono più gli eroi. E lì Schlein ha detto a un certo punto a Giorgia Meloni, ma lei è andata al governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? Secondo te? Secondo me quello che ha detto adesso la professoressa è perfetto e vale tanto per gli organi di informazione quanto per le opposizioni. Cioè alla fine questa destra e questa Presidente del Consiglio per la sua provenienza politica, per la sua militanza politica riflette esattamente l'atteggiamento dell'underdog, la sfavorita che ce l'ha fatta contro tutto e contro tutti e che ancora adesso, pur essendo capo del governo, il potere maggiore che c'è in un'Italia in cui il potere è talmente diffuso fin dall'essere spappolato, ha di fronte a sé i fantasmi, i nemici in continuazione. Per cui anche quando deve raccontare le cose che ha fatto e che vanno bene, ha ogni volta bisogno di costruire il suo nemico che le dice tutto va male e lei a sua volta può replicargli la colpa è tua di quando governavi. In questo lei ha le mani pulite perché non ha mai governato e dunque ha gioco facile a ripetere questo mantra. Però anche Elislein oggi ha detto... Elislein oggi particolarmente efficace, così come Giuseppe Conte è stato un bel dibattito quello di oggi, Elislein le ha ricordato una cosa oggettiva, di fronte all'ennesimo scaricabarile su quelli che c'erano prima, a proposito della sanità e del tetto di spesa alla sanità, Elislein ha avuto buon gioco a ricordarle, guarda che il tetto di spesa è stato messo per la prima volta da un governo nel 2009 ed era il governo dove tu eri ministra, quindi con chi te la vuoi prendere se non con te stessa? Ma insomma siamo sempre dentro il solito schema, noi contro di loro, il popolo contro i poteri forti, c'è bisogno di un nemico per identificare e riconoscere se stessi, altrimenti Meloni da sola non sta in piedi e questo è un grave vulnus perché ripeto lei è il governo del paese e non può fare opposizione al governo, anche lei, sarebbe un'anomalia ed è un'anomalia. Italo Bucchino è un'anomalia, è una tecnica retorica, è una tecnica di governo e quando Caraccio lo dice che non siamo messi così bene, oggi Conte ha detto a Giorgia Meloni che sull'austerità e sulle trattative in Europa non è che ha portato a casa granché, anzi e anche lì Meloni ha replicato dicendo ma non ero io al potere, non ero io al governo e soprattutto ha detto io sono con lei e grazie a me l'Italia è tornata a contare in Europa, ma lo vedi anche tu questo ruolo molto più importante in Europa e a livello internazionale dell'Italia grazie a Giorgia Meloni? Ma se rispondessi che lo vedo io non basterebbe, invece cito l'Economist oggi e devo quindi contraddire quello che ha detto Lucio Caracciolo purtroppo, l'Economist scrive ed è sempre stato acidissimo, mai tenere, di John Elk, di John Elk, sempre stato molto aggressivo nei confronti dei governi, io ho detto una parola contro John Elk? Ma no, io non lo dico per difendere John Elk, io parlo di giornalisti, ma tu fai parlare la prima regola, fai parlare l'altro. Lasciamo finire Bocchino. Allora, ha scritto l'Economist, Meloni ha smentito gli scettici, tra virgolette, fra tutti i paesi europei l'Italia è per una volta tra quelli che destano meno preoccupazione, quindi le parole di Caracciolo sono sempre importanti quando le ascolto, però l'Economist mi sembra almeno altrettanto autorevole rispetto a Caracciolo e di solito non è tenero, non è tenero di solito l'Economist e non ha interesse ad essere tenero nei confronti di Giorgia Meloni, anzi ha anche detto che sul dossier di immigrazione è riuscito a portarlo al centro del dibattito europeo, quindi come vedete c'è un discorso che stride tra quelli che sono i consensi che la Meloni ha sulla stampa internazionale autorevolissima, con le cancellerie internazionali e poi quello che leggiamo sui giornali italiani. Allora noi come giornalisti ci dobbiamo chiedere com'è possibile che noi rappresentiamo un'Italia allo sfascio? La mattina io quando leggo il giornale sono sconvolto perché mi preoccupo, dico adesso fammi chiamare i miei figli, si sta sfasciando tutto, praticamente il paese è alla fine, poi dopo faccio una cosa semplice, fai digito www.istat.it, mi leggo i dati e poi dopo mi faccio la doccia serena e tranquillo che so che sto in un'Italia che sta crescendo, dove l'indice di fiducia dei cittadini è maggiore di ieri, dove il risparmio delle famiglie è maggiore di ieri, dove la ricchezza è maggiore di ieri, dove l'inflazione è minore di ieri. Veramente questo film dove l'hai visto non lo so, perché non leggo i dati istat.it. No, 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 siamo felici. Guarda vengo a fare la doccia da te la prossima, così avrò una giornata migliore. Non con me però, stai lontano da me. Però nella tua doccia, così vi darò la vita più bella. Allora, leggete i dati istat e vedrete che quello che scrivono certi giornali è sbagliato. È falso, è falso, Caracciolo, siccome sei stato tirato in ballo, cioè l'Economist... Ma io non sono convinto che la stampa italiana sia la migliore del mondo, ma quando sento giudicare l'Italia attraverso i giornali stranieri, che ci capiscono davvero poco del nostro paese, l'hanno dimostrato varie volte, che sia l'Economist o che sia un altro giornale, francamente forse l'Economist aveva anche un tono leggermente ironico, nel senso che l'Italia è messa da sola in condizione di non nuocere agli altri paesi europei. Quindi basta che non affondi e tutto va bene. Ma onestamente la situazione nostra, mi pare, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista economico e delle politiche fiscali soprattutto, certo non solo per colpa della Meloni, intendiamoci, e tutte le altre cose che vediamo, la demografia, vogliamo parlare della demografia, il divario nord-sud, l'istruzione, insomma non è il paese di Bengodi, rispetto ad altri paesi, per carità, siamo dei fortunati, ma rispetto a quello che potremmo essere c'è parecchio da lavorare. Sì, comunque ricordiamo che Banca Italia ha dimezzato le stime di crescita del governo a 0,6%, la Germania è allo 0,9%, sta messa malissimo. Ma comunque, insomma, Speloni... L'ultimo d'Europa, perché parla della Cassandra. Ecco, voglio solo dire... No, Banca d'Italia, ho detto lui. Parla della Cassandra. Banca d'Italia, scusami. Manca? No, Banca d'Italia, ho detto, come hai detto giustamente. Ah, Banca d'Italia, sì, sì, no, non cito... Era Banca d'Italia, non la Cassandra. Niente po' di meno che... No, vorrei rassicurarla, professoressa Truppier, perché è la prima volta che lei è ospite di 8,5%, che non è che qui, come direbbero alcuni, tifiamo contro l'Italia. Cerchiamo di raccontare l'Italia, diciamo, nel modo più vero e reale possibile. Torno un attimo al question time di oggi, che forse lei ha avuto modo di guardare. Sì. Ha visto le tecniche di retorica, di comunicazione, sia di Giorgia Meloni che di Elislein, anche di Conte. Chi è più efficace? Dove sono le due figure femminili di politica, le due leader politiche? Dove sono i punti forti e i punti deboli? Sì, possiamo fare una radiografia retorica di Meloni e Schlein. Cominciamo con Schlein. Il punto di forza di Schlein è la sua passione. Lei è una passione sicuramente un afflato quando racconta le cose. Questo è un aspetto positivo. L'altro aspetto positivo di Schlein è la correttezza del linguaggio, cioè la sua precisione linguistica. Però ci sono ovviamente anche dei punti di debolezza. Questa passione di Schlein, di cui ho parlato, può sembrare un romanticismo un po' poco concreto, un po' ingenuo, un po' costruito. E poi la precisione linguistica invece può essere considerata un intellettualismo. E l'intellettualismo non piace mai. Invece andiamo alla radiografia retorica di Meloni. Il punto di forza di Giorgia Meloni, che è veramente indiscutibilmente un punto di forza, è una cosa che in retorica si chiama autenticismo, oppure autenticità retorica, che non vuol dire essere autentici, ma dimostrare, scegliere di essere autentici. Noi vediamo Giorgia Meloni, che parla con un accento tipicamente romano, che dice che deve andare al bagno, non dice semplicemente scusate mi assento, ma dice che deve andare al bagno, oppure che si arrabbia o che fa le smorfie. Questo autenticismo piace tantissimo. Oggi è iniziata il suo discorso al question time, le sue risposte, in modalità Merkel, quindi molto istituzionale, però poi è tornata a Meloni, quindi è tornata con la sua verve. Il punto di debolezza è che è in uno stato continuo di incendio, cioè di campagna elettorale, e l'incendio deve essere sempre alimentato. La domanda che ci facciamo è, riuscirà sempre a mantenere questo incendio? Si dice che la campagna elettorale è la poesia e poi governare è la prosa. Adesso vediamo se si riesce a fare la prosa e quanto dura la poesia e quanto invece continuerà con questo stile di autenticismo. E comunque tutti aspettiamo questo dibattito Meloni-Schlein, perché sarà interessante da vedere e da studiare, e soprattutto per capire di più sulla politica italiana. Ecco, e così lo spieghiamo anche ai giornali, ai colleghi stranieri. Massimo Giannini, a proposito politiche incendiarie, di equilibrio all'interno della maggioranza, la Lega. Allora, abbiamo avuto oggi il ministro Salvini, che col suo ministero, sappiamo che la Lega è per la devolution, hanno voluto tantissimo anche questa autonomia differenziata, se la intestano, ho detto che è un grandissimo successo della Lega, insomma, Udite Udite è intervenuto con una direttiva nazionale, Salvini, su, sapete che cosa? I limiti di velocità decisi dai comuni, dalle città, come per esempio Bologna, limiti a 30 all'ora, ma possono essere anche città più grandi, città più piccole. Adesso c'è una direttiva nazionale, alla faccia dell'autonomia di una realtà locale, che almeno quella si pensava che su un tema come questo fosse libera da imposizioni dello Stato centrale. Poi, la Lega ha organizzato, abbiamo letto in Parlamento, un convegno sull'aborto, dove uno dei parlamentari ha dichiarato che l'aborto deve essere vietato anche in caso di stupro, insomma, anche qui abbiamo un po' di medioevo invece. E sul fronte invece bellico, la Lega, oggi c'è stato un piccolo caso, perché con un ordine del giorno, la Lega chiedeva al governo di cambiare strategia sull'Ucraina, perché sull'invio delle armi, insomma, l'opinione pubblica non era più così a favore, non la sosteneva, e perché i risultati della controoffensiva a Ucraina erano molto scarsi. Poi è stato tutto riformulato, il caso è rientrato, eccetera, eccetera. Siamo di fronte a che cosa, citando questi tre esempi? Nell'ultimo caso un avvertimento al governo Meloni e tutti gli altri su un'operazione di aiuto, di disturbo alla Meloni? Guarda, a me pare che da qualche mese, almeno un paio di mesi, Salvini sia un po' come il moscone sotto la boccia di vetro, Ronza sbatte da tutte le parti, è in chiara confusione, perché sente, vede, percepisce, sondaggi alla mano, che Meloni gli sta mangiando il partito. Man mano ci si chiedeva tante volte chi sarà l'erede di Silvio Berlusconi, Tagliani, non Tagliani, l'erede di Silvio Berlusconi è la Meloni, perché la destra se la sta prendendo più o meno tutta. E dunque Salvini cerca spazi di agibilità politica, li ha cercati sulla manovra, li ha cercati con i condoni, li ha cercati a più riprese negli ultimi mesi, su tante questioni sulle quali si è sistematicamente smarcato da Giorgia Meloni. E anche questi ultimi sembrano fatti apposta, a quasi pretesti per mettere un po' in difficoltà il governo, per comunque costringere la Meloni a fermarsi e a dirimere l'ennesima controversia, la principale delle quali è stata quella sulle candidature. Dopodiché Salvini perde, perché alla fine Meloni ha buon gioco a imporre la sua linea. Però ogni volta prova a rialzare una siccella, a forza di prendere schiaffi, poiché Salvini è imprevedibile. Io non penso che farà il papete d'inverno, per essere chiari. Però questo è fonte di destabilizzazione per il governo. E quindi di qui l'idea capocratica alla quale ritorno ogni volta, e cioè Meloni ha un solo obiettivo, spalmarli tutti fino alle europee, per prendere il plebiscito, perché si candiderà in tutte le circoscrizioni, io ne sono certo, per annientare gli avversari e gli alleati. E a quel punto andare... Magari candida la sorella Arianna in tutte le circoscrizioni. Ma che le dà manforte, anche nella sindrome del complotto, Arianna ancora l'altro giorno ha ripetuto ancora una volta, ci vogliono far saltare i nervi, ma chi? Eh non lo so, questi sono i quesiti che non chiedo a Italo Bocchino, perché anche tu non mi sai dare risposte. Ci stanno prendendo tutto e si lamentano pure. Governate, chiedete i pieni poteri, ci arriverete, speriamo solo che gli italiani al referendum sul premierato... Non dice, dite voi voi, facciamo sempre nomi e cognomi, perché sennò qua vengono attribuiti ruoli... No, no, mi riferivo alla Meloni e alla destra. Va bene. Allora, Lucio Caracciolo, voglio tornare ancora rapidamente a questo ruolo dell'Italia nello scenario geopolitico, perché è stata annunciata questa missione difensiva europea nel Mar Rosso, per una missione composta da Italia, Germania e Francia, contro i ribelli dello Yemen, gli Houthi, che stanno mettendo a repentaglio la libera e sicura circolazione delle merci attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez. Nella bozza che è uscita stasera, che verrà discussa domani in Consiglio dei Ministri, c'è anche la missione del Mar Rosso e si prevede, tra l'altro, la possibilità di impiegare mezzi e personale di una missione anche in altre missioni della medesima area e il Governo dovrebbe anche inserire un comma per individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza. Tu sei in grado di tradurre questa cosa in termini concreti, pratici? Evidentemente stiamo preparando delle forze speciali pronte a intervenire dovunque a qualsiasi momento, ma non è che si inventano dalla mattina alla sera. C'è nel senso che non le abbiamo? No, nel senso che abbiamo delle forze speciali, ma non certamente capaci di fare quello che pare essere incluso in quel comma. È interessante che l'Italia abbia comunque deciso di avere una presenza difensiva, poi non so cosa voglia dire, perché lì ci si spara nel Mar Rosso, perché obiettivamente il Mar Rosso è fondamentale per noi che ci si possa navigare. Però è uno strano trio. Italia, Germania, cioè due paesi che non hanno un buon rapporto con l'uso della forza armata, per usare un eufemismo, e Francia che quando c'è da sparare spara pure troppo. Quindi è una missione un po' strana. In ogni caso non cambia l'equazione militare, cioè abbiamo già visto prima con i sauditi, poi con gli americani e con gli inglesi, che non è che si risolva la crisi. La crisi si risolve quando si risolve la crisi di Gaza. Ecco, ma lì i tempi, perché Hamas, diciamo di ieri sera o stanotte, ha detto che non c'è nessun margine di trattativa con Israele, Netanyahu è sempre più impopolare, Biden adesso entrerà poi in una grande e potente campagna elettorale, quindi quanto lo potrà sostenere ancora il premier israeliano? Lo sostiene? Non credo più di tanto, nel senso che Biden e Netanyahu sono innanzitutto nemici personali e politici. Però Netanyahu fa quello che vuole, non è che stia a sentire l'invito di moderazione delle americani. Mi pare che Netanyahu faccia quello che cerca di voler fare lui, anche se nello stesso gabinetto di guerra israeliano ci sono posizioni molto diverse. Però il punto è che in questo momento tutti e due, sia Hamas che Israele, sarebbero disposti probabilmente a una tregua, una tregua anche di qualche settimana, per arrivare poi a uno scambio di prigionieri. Ma la situazione sul terreno è una incompiuta, come è inevitabile che sia, non è che puoi spazzare via completamente Hamas da Gaza e anche questi famosi tunnel, dicono i generali israeliani, non lo dico io, resteranno in gran parte fuori controllo, sono 700 chilometri. Siamo messi peggio con la guerra Gaza-Medio Oriente o quella in Ucraina? Per noi è più grave la guerra in Ucraina perché fra l'altro alla fine i cocci saranno nostri, comunque vado a finire, dovremmo pagare una buona parte della ricostruzione dell'Ucraina e non solo dovremmo, nel senso retorico, se non lo facciamo l'Ucraina diventa un buco nero in cui può succedere di tutto. Dall'altra parte, quello che prima cercava di mettere Salvini nella bozza è un sentimento diffuso anche in America. Poi lo stesso Crosetto ha detto sì, diamo le armi, però contemporaneamente cerchiamo di aprire un negoziato. Ma la mia impressione è che i russi non abbiano voglia adesso di aprire un negoziato quando l'Ucraina è in una fase di particolare difficoltà e che gli ucraini non abbiano comunque una possibilità di rovisciare il fronte almeno in tempo breve. Cercheranno probabilmente di colpire con missili, droni... Insomma, quindi va avanti anche lì ancora per un bel po'. Temo di sì. Tra l'altro il ministro della Difesa Crosetto ha un invito aperto a 8,5, come lui sa e speriamo che venga anche a raccontarci un po' quello che sta succedendo sui fronti bellici e anche sulla missione italo-franco-tedesca nel Mar Rosso. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché torniamo in Italia e c'è un altro cavallo di battaglia di Giorgia Meloni e del suo governo che è il liceo Made in Italy che però fatica a partire. Guardate. La Germania è il primo paese esportatore d'Europa e il terzo del mondo eppure non possiede un liceo del Made in Germany in compenso a un milione di studenti iscritti agli istituti tecnici superiori che competono con le università garantendo posti di lavoro qualificati e ben retribuiti. Da ieri noi abbiamo invece il liceo del Made in Italy che come molte altre iniziative di questa stagione politica è nato avendo a cuore la tutela del patrimonio identitario nazionale. Quello dell'identità deve essere un concetto elastico visto che fino a poco tempo fa tra i 288 prodotti che vedevano l'Italia primo paese esportatore al mondo il più importante era rappresentato dalla categoria rubinetti e valvole. Il debutto del nuovo liceo non è stato dei più incoraggianti perché in tutta Italia hanno aderito solo 92 istituti sui 500 che ne avevano i requisiti. Rispetto a questi ultimi che si chiamano liceo economico-sociale spariscono le ore di antropologia, psicologia e sociologia raddoppiano quelle di diritto ed economia politica. Ma cosa si studierà nel triennio ancora non si sa. Chissà, scrive il Corriere, quante famiglie affideranno il futuro dei propri figli a un percorso in gran parte ancora avvolto nella nebbia. Valerio Ricciardelli, tra i massimi esperti italiani di processi formativi, dimostra con le sue analisi che l'istruzione tecnico-commerciale è la leva strategica per creare crescita economica. E se proprio qualche nuova materia si vuole studiare, Ricciardelli pensa che debba essere la demografia, indispensabile per dirci dove va il mondo e soprattutto chi saranno i consumatori del futuro. Allora, siamo in chiusura. Grazie Italo Bocchino, grazie Massimo Giannini, grazie Lucio Caracciolo. Ricordo l'ultimo e il nuovo numero di Limes, Svizzera, la potenza nascosta. E ricordo anche che da oggi sono riaperte le iscrizioni alla scuola di Limes. Grazie professoressa Truppia. e ricordo il suo ultimo libro uscito a gennaio che si intitola, adesso lo trovo, Viva la retorica, sempre pubblicato da PM. Grazie spettatrici e spettatori. Adesso vi lascio a Daldo Cazzullo, alla sua giornata particolare dal titolo La Marcia su Roma. E poi a seguire potrete rivedere La Torre di Babele con Corrado Augas e anche l'intervista di Augas a Liliana Segre. Quindi state con noi e noi come sempre domani, 8 e mezzo. Arrivederci.